Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora benvenute in questo video acquisti è un video acquisti molto eterogeneo, troverete di tutto, di più è un video acquisto delle cose acquistate e regalate negli ultimi 300 anni non so perché nell'ultimo periodo ho avuto una difficoltà in mano a stare dietro ai miei video o un arretrato che voi non avete idea soltanto in questo pomeriggio io ho registrato il terzo video e dovrei registrare altre tre ma non ce la posso proprio fare stasera inizia a avere fame comunque non perdiamoci in chiacchiere e nulla, ti invito a continuare a guardare il video se ti piacciono i video acquisti ti invito a mettere un pollice in su se non vuoi perdere i miei prossimi video ti invito a iscriverti al canale partiamo subito, giù nell'info box ti lascio la lista completa dei prodotti finiti che ti sto per mostrare e buona visione primo prodotto di cui voglio parlare che ho acquistato su Amazon e vi lascio il link se lo ritrovo è questo set di luci per la specchiera, per la vanity table sono dieci luci, queste qua a forma di pallina che vanno incollate con questi patacchini come li chiama Federica alla specchiera e si possono scegliere tre luci fredda, calda e intermedia con diverse intensità lo ho comprato perché le luci che ho alla specchiera ora che sono le luci a pinza di Ikea una è morta, Ikea non le fa più e quindi dovevo trovare una sostituta e queste le metterò in funzione il prima possibile probabilmente già nelle prossime giornate secondo prodotto che anche ho comprato su Amazon si se non sbaglio, se non è Amazon e Ebay comunque sempre giù nell'info box vi lascio il link è questo treppiedi molto leggero io il mio vecchio treppiedi l'ho dovuto restituire perché non era mio ma era un prestito e quindi ho deciso di comprare questo qui che può arrivare a un metro e ventiquattro un metro e ventiquattro ha un peso di mezzo chilogrammo ci si può mettere sia la macchina fotografica che il cellulare eventualmente anche per foto di Instagram e all'interno ha anche la sua custodietta per poterla portare in giro e non vedo l'ora di iniziare a utilizzare per poter ritornare ai miei video con sfondo tematico non so se ve li ricordate poi sono passata da OBS e ho preso volevo acquistare dei prodotti sia di Giuliana per Cosmelfire che quelli di Lolla di Mr. Strawberry Peel Kids però non li ho trovati era saccheggiato praticamente lo stand e ho trovato soltanto il mascara di Giuliana si, mascara volumizzante e prossimamente lo inizierò a utilizzare sono veramente molto curiosa di questo prodotto non vedo l'ora di iniziarlo a utilizzare l'ho pagato 13,90 euro dovrei poi acquistare ovviamente anche la sua base per poterle provare insieme se le trovo ovviamente non mancherà occasione per poterlo acquistare poi sono passata di recentissimo da Yves Rocher ero in giro con il mio fidanzato e il cagnolino e ci siamo fermati e ovviamente oltre a tutte mi hanno fatto la scheda punti ho ovviamente tutte le cartoline del caso io ho acquistato la base viso Per Perfect una confezione da 25 ml questa è la il make up primer il primer di eccolo qua primer viso illuminante quando uno è decoccio e come sample campioncini mi hanno dato della linea Elisir Gness sia la il trattamento ristrutturante giorno che questa cos'è il siero doppia azione da applicare sia la mattina che la sera in sera però utilizzarlo a breve sono un po' incuriosita devo essere sincera poi fine estate entrai da non mi ricordo forse era Calzedoya non mi ricordo e ho acquistato un semplice pezzo di sotto di un costume nero e mi hanno dato un buono acquisto da spendere su questo sito Baru praticamente è una linea un marchio italiano che inserisce all'interno dei suoi prodotti biologici il mosto del vino Baru e ero molto incuriosita sono entrata mi sono fatta un giro e ho ordinato avevo un buono sconto e ho approfittato per acquistare il siero illuminante antimacchie lo devo iniziare ad utilizzare il prima possibile perché mi sono uscita il secondo anno che mi escono due macchiette sopra il labbro e un paio di macchiette qui sopra poi ho preso essenza fresca idratante dissetante senza filtri solari dovrebbe essere è un'acqua rinfrescante da utilizzare su tutto il viso e infine sempre con estratti di semi d'uva biologica coltivata a Barolo ho acquistato questa crema multiattiva rigenerante da 100 ml e come plus mi è arrivato questo gel disinfettante igiene per le mani azione rapida che è sempre utile in questo periodo storico e una maschera in tessuto extra lift sempre al vino e gli estratti di semi d'uva biologica coltivati a Barolo e fitoestratti di mirtillo questo sono curiosa di provarlo è stato carino come come pensiero di marketing su un acquisto di un'altra linea ti sei poi ritrovato ad acquistare dei prodotti di un certo livello a praticamente costo zero perché ho speso semplicemente avevo un volo di 50 tutto il mio ordine era forse 60 euro quindi ci ho messo semplicemente 10 euro di differenza sono stata molto molto contenta poi quest'estate l'avete visto nel video delle vacanze in Basilicata sono stata a Matera e il mio compagno e il mio fidanzato mi ha voluto fare un regalo in questa bellissima bottega che si chiama arte decorativa vi lascio giù nell'info box i riferimenti dell'artista sono praticamente fa oggettistica e bijou in tuffo sono bellissimi volevo rimanere in quella in quella bottega praticamente a vita questo è il contenitore la scatolina molto carina anch'essa e ho scelto due prodotti due bijou due oggettini molto carini il primo sono questi orecchini non so se si vedono con una perla degli svaroschi e la pietra di tuffo la pietra tuffo che è la pietra ovviamente di Matera sono stupendi mi piacciono tantissimo non vedo l'ora di iniziare ad utilizzare e poi questa mi viene da ridere perché è veramente una cosa carina un anello gigantesco con una pietra di tuffo gigantesca con una bellissima lavorazione in oro rosa che io ho chiamato l'anello di fidanzamento dei Flintstone mi sono fidanzata con sono Wilma mi sono fidanzata con Fred Flintstone è stupendo mi piace tantissimo questo è piaciuto anche a mia sorella io e lei abbiamo dei gusti abbastanza abbastanza diversi però anche a lei è piaciuto molto sono stati esattamente un regalo dolcissimo io ero soltanto entrata per vedere la bottega perché da fuori la canina poi c'era un canino troppo bellino e mi era venuta voglia di anche semplicemente di fare una coccola al cagnolino e Marco ha deciso di farmi questo bellissimo regalo è stato troppo carino troppo dolce poi sempre il mio compagno mio fidanzato Marco mi ha preso della Elizabeth Arden questa crema a corpo al miele vediamo un attimo in italiano non c'è in italiano no dovrebbe essere alte verde alte tri al miele è un barattolone da 500 ml ci andrò avanti praticamente tutta la mia vita e poi sono rimasti questa busta gigante piena 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 degli ultimi acquisti butto le mani e vi faccio vedere allora ok ho preso della Biopoint sempre su Amazon e sempre di questo vi lascio il link giù nell'info box il Biopoint Professional 5 azioni trico cosmetico delicato un balsamo istantaneo bifase districante idratante purificante dona morbidezza e esalta la luminosità di questo ho utilizzato nei mesi precedenti una confezione una confezione travel quindi vi lascio giù nell'info box il link che vi rimanda direttamente alla recensione con il minotaggio vi sono trovata benissima per questo ho deciso ovviamente di prenderne questa grande che è comodissima distica i capelli lascia luminosità sulla chioma quando le asciugo in modo rapido basta qualche piccola spruzzata per avere una chioma districata e morbida mi piace tantissimo poi al tutto 50 centesimi se non erro ho preso questa spazzola tipo il tangled diesel l'ho presa perché era rosa carina piccolina per i viaggi spazzola fancy stone comoda l'avevo comprata per per lasciarla a casa del mio fidanzato ovviamente perché ogni tanto rimango a dormire là ho capito di farmi shampoo e doccia e non avevo una spazzola ora probabilmente anzi sicuramente non mi servirà più poi verrete a sapere perché non mi servirà più per questo scopo e lo utilizzerò per scopi altri poi ho fatto degli acquisti anzi no questo lo faccio vedere dopo ok ho preso ho ripreso dell'antica arboristeria lo shampoo alla camomilla quello addolcente lo utilizzo da sempre mi piace sempre tantissimo ho fatto questo video giusto in tempo perché ho appena finito tutti gli shampoo me ne è rimasto soltanto uno della della ebrochet ma non alla cavomilla quindi ora mi posso fare lo shampoo poi mia zia della stenoma mi ha preso della linea fit care questo spray antitraspirante piedi per sudorazione eccessiva queste sono comodissime quando si fa sport purtroppo al momento non si può fare sport non posso fare palla a volo come dico io però è sempre comodo eventualmente posso iniziare a correre un pochettino si può correre da soli in solitaria in piccole zone non troppo trafficate è sempre comodo tenerla a portata di mano poi sempre su amazon se non erro ho preso questo detergente gel detergente purificante della nevia acqua purificata alga oceanica per pelli miste e grasse 150 ml dedicato alla tua pelle non vedo l'ora di iniziare a utilizzare poi 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 sempre il mio compagno mio fidanzato mi ha preso sempre dell'Elisabeth Arden questo lip care protettivo spf 15 in colore 02 blush quindi un balsamo labbra leggermente colorato con un po' di protezione sempre comodo sempre su amazon ho preso questo questo tape praticamente per corpo e vestiti sono quegli scoccini che si utilizzano ad esempio quando si hanno i vestiti dove scende la bretellina o le camicette che si aprono in mezzo al seno per tenere tutto fermo e composto e muoversi con libertà con i propri vestiti addosso quest'estate l'avevo preso per utilizzarlo quest'estate ma come vi sto dicendo questi sono acquisti che ho fatto nei mesi ma non avevo mai fatto i video acquisti quindi ero dimenticato di utilizzarlo ho un bellissimo vestito che utilizzo senza reggiseno perché ha la schiena tutta scoperta però purtroppo le bretelline cadono avevo pensate per tenere su le spalline ma il vestito mi sembra che l'ho messo una sola volta e devo stare sempre attenta a tenere su il tutto poi da Tiger questa maschera notturna per gli occhi questa pure me l'ha regalata Marco in blu morbidissima e poi sempre della Stenum della linea Sun Care un Sun Protection SPF 50 più uno stick di protezione molto alto lo metterò da parte per utilizzarlo l'anno prossimo e poi ho fatto un ordine su Ecco Verde sono le ultime cose che vi mostro un attimo che le tiro fuori da anzi no prima di dimostrarvi ciò che ho preso da Ecco Verde l'ultimo acquisto fuori da Ecco Verde questo smalto semplice trasparente della Cors il numero 70 è un semplice trasparente mi stava finendo è sempre comodo tenerlo tra i propri smalti e poi ho preso su Ecco Verde diversi prodotti allora prima di tutto ho preso della Puro Bio questo Sunset Fix and Fresh è un make up un'acqua fissante make up con acido ialuronico e ialuronico vabbè acido ialuronico vegan non testato contro il nickel organic cosmetics da 100 ml in questo periodo di mascherine eccetera conviene sempre avere uno spray fissante da spruzzare sul viso meglio qualcosa di più naturale rispetto a un prodotto più aggressivo per il viso poi ho preso sempre per quanto riguarda fondotinta eccetera questo prodotto dell'Aeril è un fondotinta lo chiamano fondotinta con le fondotinta all'olio di jojoba l'ho preso nella colorazione porcelona e sono 30 ml poi ho preso questa matita della lavera sono una matita sopracciglia l'ho presa nella colorazione blonde 02 mi era finito stavo utilizzando una polvere al momento però in veloci è sempre meglio avere una matita rispetto a una polvere vado molto più veloce e poi ho preso degli smalti allora della Suncut Girl ho preso questo smalto argentato a base d'acqua si chiama Starlight Silver questo se non erro ma devo controllare va via con l'acqua calda ma devo controllare poi ho preso un attimo che si è devo rimiscelare il colore perché si è rovinato ovviamente stando fermo della Provida Living Nails Color Organic Nail Polish in questo colorino dorato molto chiaro questo sono curiosa la colorazione di questo l'ho detto sì questa invece è la colorazione 11 e poi ho preso della Benecos questo colore rosso intenso della linea Happy Nails Green Beauty and Care con avogato e biotina 99% di prodotto di sostanze naturali si chiama Vintage Red è un bellissimo rosso non so se il colore si apprezza sono molto curiosa di provare questo poi ho scelto due campioncini questo è sempre tutte e due della Sante creme ok credo che questo video sia stato lunghissimo e il Titanic mi fa un baffo praticamente ok io spero che questo video dei miei acquisti ti abbia fatto compagnia se sì ovviamente ti invito a mettere un pollice in su se ti piacciono i miei video ovviamente ti invito a mettere a iscriverti al canale per non perdere i prossimi video io ora smonto tutto mi smonto io e finalmente entro nella mia serata relax ti ringrazio di nuovo per avermi ascoltata per avermi aperta e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi ciao ragazzi in gamba